Ciao ragazzi bentorni sul canale e benvenuti a chiunque, oggi siamo qui con un nuovo episodio di Far Cry 5 Allora ragazzi, siamo ad un buon punto per la conquista della regione di Jacob E come vedete in basso a destra i punti di resistenza ormai manca l'ultimo punto da raggiungere che è la boss fight Infatti oggi io direi che andiamo a fare la missione di Earth Drummond Senior E poi abbiamo anche un'altra missione principale che è questa qui, la Tummy Burn Però ora vediamo ragazzi, vediamo perché magari io dopo questa missione vado in off camera Per poi continuare a far avanzare i punti di resistenza perché oggi vorrei dedicare l'episodio alla boss fight con Jacob Perché poi ci rimarrebbe l'ultimo boss da fare che è proprio il finale del gioco Allora dai ragazzi, senza perdere tempo, iniziamo subito con la missione di Jab Salve No Non sono neanche un americano medio Sì, confini ridisegnati, distrutti, voti, bla bla Comunque, le elezioni si avvicinano e i secchioni mi dicono che nei sondaggi sono spacciato Perché quegli stupidi edeniti non voteranno per me Dì quello che vuoi, sulle sette vi sbiellati, ma se c'è una cosa vera è che vanno a votare I secchioni dicono che la mia unica possibilità di vittoria sarebbe tornare indietro nel tempo A già rimanderare ai confini del distretto per non contare gli edeniti Al che io penso Potrei vincere senza problemi se gli edeniti non andassero a votare Ora non sarò io a dirti come potrebbe succedere se ci siamo capiti Ma una soluzione permanente al mio problema momentaneo sarebbe ideale E chi ha orecchia per intendere Ovviamente non ti sto dicendo di uccidere qualcuno perché sarebbe illegale È ancora tecnicamente illegale, no? Beh, ma se ci fossero meno edeniti Perché per puro caso inciampano e cadono su qualche centinaio di proiettili Ovvio Forse avrei più possibilità Il distretto in questione è all'incrocio del grill streak Puoi portarti anche quel demente di mio figlio Non vale molto Ma a sparare se la cava E poi, beh, se questa cosa dovesse crearci problemi Un capro ispiatorio fa sempre comodo Non credo neanche che finirebbe in prigione contando che un po' Tucco Beh, cosa stai aspettando? Datti una mossa Ok, allora Quindi Raggiungi l'incrocio Raggiungiamo l'incrocio Prendo in prestito il tuo mezzo, zio E vado all'incrocio E ci vediamo lì Ammazza un chilometro Ci vediamo lì, raga, dai Andiamo Chi c'è qui? Chi? Ecco Giuda Bomb Vai così Bomb Sì Mi piace, mi piace Mi piace Ce l'hai fatta, bel lavoro Col tuo aiuto riporterò in montana la grandezza di un tempo Ti dirò una cosa Perché non ti prendi Nancy? Puoi andare in giro a ripulire il paese col mio pick up E tutti gli elettori sapranno Chi è che ha a cuore Le loro esigenze Ah, e non riportarmi Earth Junior Mai Ok Quindi abbiamo Nancy, quello che abbiamo sfruttato Per fare questa missione Ok belli, ora che abbiamo finito questa missione Io vado a fare un po' di secondare Così facciamo arrivare i punti di resistenza Fino alla boss fight e poi ci goiamo alla boss fight A dopo raga Ragazzi che sta succedendo? Ci siamo forse Forse ci siamo Eccoci In gabbia come sempre Ah quello lì è quello che ti incoglionisce Eccolo qua In merdina Pensavi di essere libero Il tuo amichetto Ha fatto tanta fatica per niente Ma non importa Adesso l'ha capita Te l'ho detto Non sei un eroe Sei uno strumento Uno strumento Ora conosci il tuo scopo Lo conoscevi dall'inizio No di nuovo Eccolo Eccolo È cambiato questo stavolta Non è più l'alieno Aspetta Ma questo è il capo dei Whitetail Nooo Non l'avrò mica ammazzato Non è più l'alieno Eccolo Solo tu potevi avvicinarti tanto Solo tu Avevi la sua fiducia Sei sempre stato solo e soltanto tu Ben fatto Bel lavoro Hai superato la tua prova Hai fatto il tuo sacrificio Ma ora Sei solo E sei debole Sappiamo cosa succede ai deboli Sfoltisco il branco Ebbene sì Quindi sarò fuori ad aspettarti Ero drogato zio Ero drogato Ascoltami È stato Jacob Non è la prima volta che succede Ronny Parker È il suo stile E glielo abbiamo permesso Mi spiace Bello Tu trova Tu trova Quel figlio di puttana Trova Jacob E uccidilo Sono tre episodi che lo cerco zio Andiamo andiamo O la prossima volta che ti vedo Giuro su Dio Che ti ammazzo con le mie mani What the fuck Era ora che ti facessi vedere Tenevo di dover venire a stanarti Che ti fossi lasciato impietosire Ma sei un vero soldato Non si ferma il destino Manca gli ultimi due My gosh raga Finalmente ci siamo Uccidere questo Maledetto Non capisco perché mi fa distruggere questi Però Ci siamo E adesso Uccidi Jacob Seed Ah così Ci siamo risvegliati Ma dov'è Jacob Seed Come granata Ok ci siamo Poi andiamo di qua Dove devo andare Fatemi capire Ma chi si nasconda Sto cercando di salire E venire da te Scemo manito Ah rampino Ok Cos'è sto rumore Che Non c'è nessuna vittoria qui Finirà nel sangue Per te E per tutti Dici Muori Muori L'ho ucciso Muori Maledetto Mio fratello Ho previsto tutto Non lo so se parla con Dio Ma non importa Ha ragione L'umanità ancora una volta È in piena crisi Non ha importanza Quello che riusciamo a costruire Troveremo sempre il modo per Per raterlo al suolo Babilonia Roma Gli imperi sorgono Gli imperi vengono distrutti D'America Non siamo diversi Ci crediamo indistruttibili La guerra mondiale La guerra al terrorismo Siamo sopravvissuti Ma sempre più sull'urlo dell'abesso Ed è lì che ci troviamo Siamo Sull'urlo Della abesso Stiamo aspettando che qualcuno Ci dia una spinta E ora quella spinta Ce l'hai data tu Tu hai fatto quello che aveva detto E Non te ne sei reso conto Tu non ne avevi La più pallida idea E anche l'ultimo fratello Ragazzi È morto L'ultimo fratello dei seed Ora manca L'ultimo Ok ragazzi Questo video durerà un po' di più Perché adesso raggiungiamo Anche il bunker di Jacob Ora raggiungo il bunker di Jacob E ci vediamo lì Quindi Prima di attaccare Vediamo Innanzitutto Com'è la situazione Usa la chiave Eh ma ci sarà qualcuno Aspettare no? Eh Ha voglia Guarda qua Dove sta andando Questo? Disco di farmi vedere Dove vai? Dove vai? Dove vai? Anche al costo della vita I cancelli dell'Eden Devono rimanere chiusi Figli miei Il nemico è forte Ma noi saremo più forti Getto Ci siamo ragazzi Ok Eliminati tutti Usiamo la chiave ragazzi Usiamo questa cavolo di chiave Vai Ok Ci siamo Si entra Permesso Permesso Ma qua non ce l'avamo già stati Scusate ragazzi Cos'è i bunker sono tutti uguali? Perché avevamo già liberato un bunker Ma non ricordo Ah no no Non sembra essere uguale Si ragazzi E' quello che Ok Penso di aver capito Pare che tengano i prigionieri in fondo a quel bunker Se vuoi salvare Pratt Bisogna che cominci dalla sala di controllo L'intera area è sotto strettissima sorveglianza Ma dalla sala di controllo Dovresti essere in grado di eludire la sicurezza con la chiave di Jacob Buona fortuna Adesso io però vado a eliminare Perché ci è rimasto indietro Da arrivando Vieni qua Vieni qua E anche questo è andato raga Ora dai avanziamo Sta andando molto bene Che caspita succede qua? Cos'è il funerale di Jacob? Ma non ci credo Ma scusate ma io non ho ucciso Jacob Questo è John Vabbè Cioè non ho ucciso John Ho ucciso Jacob Ok libero Qua è libero Vediamo qua Ok interagisci Dunque Qual è La cosa peggiore Che puoi diventare Ah Guardate Ha preso in ostaggio Un traditore Scusate ragazzi Ma io Jacob Non l'avevo mica Sì Jacob Non l'avevo mica ammazzato Scusate Io lo sento ancora parlare Oh cazzo Capitana Eh qui ragazzi Quello che arriva Sì Nessuno Niente Bomm All'alta ir ragazzi Distruggiamo tutto così Osteria Osteria Bomm Ne è uno dietro Ma è uno dietro O da un'altra parte No mi sa che è da un'altra parte Avanziamo dai Avanziamo A tutti i pagani Sì Salva ma Dov'è Stiamo andando abbastanza bene Ok Osteria Hai paura Bello Gesù Vieni qua Pam Vai Apri qua Saliamo Prat Ciao Prat Tecnicamente no Siamo in un videogame Cosa sta facendo Guarda che prendi la corrente Zio Sei nell'acqua Ma cosa fa Cosa c'è lì dentro Quella E' per me Mi hanno reso forte E adesso Sono deboli E i deboli Devono essere eliminati Quindi sei con me Cosa sei? Cosa stai facendo Dobbiamo andare Ah ok Si è svegliato No pensavo che era ancora drogato Andiamo Vai Vai Ok Devo salire Sì Devo salire Come si sale Come si sale? Ah da qua Vai 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 Mi stai seguendo Zio Ma mi sta seguendo Dai 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 Ma perdiamo altro tempo Mamma mia Andiamo 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 Chiuse numero 2 3 5 5 6 Vai Detro la porta No Prendilo sul primo Che Faiamo No 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 Non muore Dove devo andare? Ah di qua Andiamo di qua Andiamo di qua Dai Andale Andale E adesso Di qua Mamma mia Che casino Dai Dai che ci siamo Apri 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 Vai 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 Siamo fuori Ok Sì Anche Jacob È andato Ragazzi Regione Liberata Abbiamo tutti trovato i Whitetail in modi diversi Ma quel che ci unisce È la perdita Famiglie Amici Eli ci ha ridato un po' di tutto questo Ci ha mostrato Che potevamo appoggiarci gli uni agli altri Era mio amico Salutiamo Salutiamo Eli E mi mancherà tanto Mi spiace zio Non è colpa tua Eli lo sa Eli pensava che potessimo resistere Aspettare 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 Che l'Eden's Gate Sparisse Ma non è così Col cazzo che è così Il cancro non sparisce Si espande Si diffonde Va estirpato Dove tutto è cominciato Raggiungi il complesso del padre Ok ragazzi Io direi che L'ultima missione L'ultima boss fight Di Fagakrai 5 Quindi il finale Lo vedremo nel prossimo episodio Io ringrazio tutti gli iscritti nuovi Che sono arrivati sul canale Che hanno messo l'iscrizione Iscrivetevi se non l'avete ancora fatto Link in descrizione Di tutto quello che vi serve Social e i miei game tag Ciao belli Alla prossima Secondo me